L'Aula ha approvato sette ordini del giorno, tante le iniziative sostenute dal Consiglio regionale in occasione del giorno della memoria. Obesità, la patologia del terzo millennio, convegno a Palazzo Lascaris. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. Lavoratori trasfrontalieri, collegamenti per malpensa, sostegno agli allevamenti che non utilizzano gabbie. Questi alcuni dei temi al centro dei sette ordini del giorno approvati dall'Assemblea legislativa. L'Assemblea legislativa ha approvato sette atti di indirizzo, unanime la votazione a tutela dei lavoratori trasfrontalieri per consentire la riattivazione dell'erogazione degli assegni familiari da parte dell'autorità della Confederazione Svizzera. Primo firmatario Alberto Preioni, Lega. Unanimità anche per l'ordine del giorno, affirma Sara Zambaia, Lega, per garantire la libera concorrenza nel settore dell'autoriparazione. Approvati a maggioranza altri cinque ordini del giorno. L'atto di indirizzo, affirma Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre Unione Popolare, mira a sostenere la transizione del settore zootecnico verso allevamenti che non fanno uso delle gabbie. Via libera anche per l'ordine del giorno, prima firmataria Alessandra Biletta, Forza Italia, per l'inserimento della crioconservazione ovocitaria delle donne affette da endometriosi grave tra le voci presenti nel nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Per il potenziamento e la valorizzazione della linea ferroviaria Cuneo-Nizza sono stati votati a maggioranza l'ordine del giorno di Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia, e all'unanimità quello presentato da Silvio Magliano, moderati. Sempre in tema di trasporti, per promuovere un efficiente collegamento tra l'aeroporto di Malpensa e Novara, è stata modificata e approvata in modo unanime la mozione presentata da Domenico Rossi, Partito Democratico. Il futuro del progetto Italvolt di Scarmagno. Questo è il tema dell'interrogazione rivolta dal consigliere PD Alberto Avetta all'assessore Andrea Tronzano nell'ambito dei question time. È fallito per mancanza di fondi il progetto British Volt in Inghilterra, dove doveva sorgere un importante stabilimento di batterie per auto elettriche. La notizia riguarda anche il Piemonte e in particolare il Canavese, dove una fabbrica analoga dovrebbe essere realizzata sul terreno del vecchio stabilimento di Scarmagno ad opera di Italvolt, fondata dal medesimo imprenditore inglese. Quale futuro attende dunque la Gigafactory a Scarmagno dal momento che Italvolt non ha rinnovato l'accordo con la ditta proprietaria degli immobili lamentando l'inadeguatezza della rete elettrica? Questo l'interrogativo che il consigliere PD Alberto Avetta ha rivolto alla giunta nell'ambito dei question time. La vicenda British Volt ha precisato in una nota scritta l'assessore alle attività produttive Andrea Tronzano non ha alcun legame né alcuna rilevanza giuridica sul progetto Italvolt. Pare certo ci siano delle problematiche legate al sito di Scarmagno che la proprietà sta cercando di risolvere con l'investitore, tuttavia non c'è dato conoscerle nel dettaglio dal momento che esiste una clausola di riservatezza tra le parti. Si è sempre impegnato con dedizione nel ricoprire l'incarico istituzionale nei momenti più rilevanti dell'attività e della vita amministrativa del comune di Biella e della nostra regione. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha ricordato la figura di Luigi Squillario, consigliere nella quinta legislatura e sindaco di Biella dal 1980 al 1990, scomparso il 20 settembre 2020. Squillario ricoprì anche la carica di presidente della Cassa di Risparmio di Biella e fu a capo dell'omonima fondazione. Giorno della memoria, numerosi gli eventi e le iniziative sostenute dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. Il 27 gennaio è il giorno in cui ricordiamo la Shoah, la vergogna delle leggi razziali, le colpe, le complicità del nostro paese che si alleò con i nazisti e dichiarò guerra al mondo. È il giorno in cui commemoriamo e onoriamo le vittime dei lager scomparse a milioni nel buco nero più profondo della storia. Queste le parole del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia in occasione della giornata della memoria che si celebra il 27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe dell'Armata Rossa. Numerose le iniziative organizzate con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. Il 26 gennaio al Teatro Alfieri, concerto di Raiss e Auditorium Band con brani di Battiato, Dylan, Joy Division, De André, Beastie Boys, Amy Winehouse, preceduto da un momento d'incontro con Lidia Maximovic, sopravvissuta agli orrori di Auschwitz che ha dialogato in videocollegamento con gli studenti e le studentesse che hanno preso parte alla serata. Il 27 gennaio il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, ha presenziato alle solenni commemorazioni che si sono tenute al cimitero monumentale di Torino e a Palazzo Civico. Sono passati tanti anni, c'è un rischio grosso denunciato solo qualche giorno fa dalla senatrice Segre, c'è il rischio di dimenticare, il rischio che questa storia sparisca dai nostri libri scolastici, il rischio che quando verranno meno i testimoni diretti nessuno ricordi più questa immane tragedia. La nostra presenza oggi è un gesto di impegno, di impegno da parte di tutti noi a trasmettere questa memoria e a tenerla viva. Gli eventi in occasione della giornata della memoria si sono chiusi con una fiaccolata organizzata dall'associazione Nessun Uomo è un'isola Onlus per commemorare i deportati che dal carcere Le Nuove di Torino furono prelevati e portati al binario 17 della stazione di Porta Nuova da cui partivano i convogli diretti ai campi di concentramento. In Piemonte quattro persone su dieci sono in sovrappeso. In Salaviglione esperti a confronto sull'obesità, la patologia del terzo millennio. Oltre il 46% degli adulti e il 26,3% tra bambini e adolescenti è in eccesso di peso. L'obesità è una sfida irrisolta di salute pubblica troppo spesso sottovalutata e ignorata da adulti e genitori. È diffusa un'autopercezione errata e si fatica a riconoscere la malattia. L'11,1% degli adulti con obesità e il 54,6% degli adulti in sovrappeso ritiene di essere normo peso. Lo stesso accade tra i genitori di bambini in sovrappeso o obesi dove il 40,3% ritiene i propri figli sotto normo peso. Sono alcune delle conclusioni emerse dall'incontro obesità alla patologia del terzo millennio. Tra gli obiettivi dell'incontro organizzato su iniziativa della Commissione Sanità, in particolare dal presidente Alessandro Stecco e dei vicepresidenti Andrea Cane e Domenico Rossi, in collaborazione con gli stati generali della prevenzione del benessere, quello di fare il punto su come concretamente il sistema sanitario, le amministrazioni, l'associazione e i cittadini stiano lavorando per la prevenzione e prese in carico di tutte quelle patologie legate al sovrappeso. È una situazione che comporta una maggiore fragilità e comorbidità con tante altre malattie. Abbiamo visto durante il Covid che chi era obeso aveva sovrappeso, aveva maggior rischio di morte e chi è sovrappeso o obeso ha maggior rischio di diabete, che quindi sono patologie che si incrociano tra di loro. Scrinare la popolazione, prenderla in carico precocemente e evitare che poi il problema abbia un impatto molto forte appunto nell'arco del proseguo della vita della persona assistita. I ragazzi e le ragazze dell'Istituto Einaudi di Alba sono stati protagonisti di una giornata di formazione organizzata nell'ambito del progetto Il Consiglio regionale ci dà credito. Proseguono i corsi formativi organizzati sul territorio piemontese dal Consiglio regionale del Piemonte nell'ambito del progetto Il Consiglio regionale ci dà credito. Un concorso speciale ideato in occasione dell'anno europeo dei giovani in cui gli studenti sono chiamati a formulare proposte in ambito di transizione ecologica, digitale e cittadinanza europea. Protagonisti i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Einaudi di Alba. Siamo venuti qua a casa loro dopo averli ricevuti a Palazzo Lascaris per cercare di spiegare cos'è la transizione digitale, come la intendiamo noi. Io sono veramente contento anche perché Alba è la mia città ed è stato veramente anche emozionante poter parlare a questi ragazzi. Le proposte migliori che emergeranno nell'ambito del progetto Il Consiglio regionale ci dà credito dal punto di vista dell'innovazione e dell'attuabilità saranno raccolte in un libro bianco, proposte da cui il Consiglio regionale del Piemonte potrà attingere per l'attività dei suoi organismi e per la redazione di eventuali provvedimenti. Il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha partecipato tuffandosi nelle acque del Po al tradizionale cimento invernale. Una tradizione che si ripete da 122 anni, decine di impabili torinesi, tra loro anche il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, si sono dati appuntamento al Circolo Canottieri Caprera per il cimento invernale, un tuffo nelle gelide acque del Po. L'evento, organizzato dalla Rarinante Storino, sensibilizza i cittadini sull'importanza della pratica del salvamento ed è anche un'occasione per avvicinare tutti al fiume Po. Il Consiglio regionale anche quest'anno ha voluto attivamente partecipare al 122esimo cimento sul Po, giorni freddissimi però tanti di noi, tanti piemontesi, tanti torinesi hanno voluto partecipare a questo evento per rafforzare il sodalizio fra uomo e acqua e natura. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie!